Ho fatto scalo a grado la domenica di Pasqua gente per le strade correva andando a messa l'aria carica d'incenso alle pareti le stazioni del Calvario gente fintamente assorta che aspettava la redenzione dei peccati la domenica di Pasqua il mio stile vecchio come la casa di Tiziano a pieve di cadore nel mio sangue non c'è acqua ma fiele che ti potrà guarire ci si illumina d'immenso mostrando un po' con la lingua al prete che dall'ostia ci si sente in paradiso cantando dei salmi un poco stonati un po' 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 un po'